Ed eccoci dunque arrivati al secondo video relativo alla seconda parte della fenomenologia dello spirito, un video nel quale vorrei spiegare il momento intitolato alla religione e il momento intitolato alla filosofia o al sapere assoluto. Sapere assoluto che è anche l'ultima parte della fenomenologia, è la stazione di arrivo di questo percorso, di questo cammino compiuto dalla coscienza o meglio dallo spirito, se parliamo della seconda parte della fenomenologia dello spirito. Con il momento, quindi la seconda parte della fenomenologia si divide nella sezione spirito e poi nella sezione religione e infine nella sezione filosofia. Con la religione la coscienza cerca quindi di uscire dalla prospettiva confinata nel finito, chiusa nel finito e di conquistare l'infinito. Ma il problema dell'atteggiamento religioso è sempre quello di rappresentarsi l'assoluto come un trascendente, come qualcosa che sta al di fuori del soggetto, al di fuori della coscienza. E dunque c'è questo mancato riconoscimento nella religione, nell'atteggiamento religioso del fatto che il soggetto è esso stesso, quell'assoluto di cui va in cerca. Questo porre l'assoluto in un Dio che è trascendente è qualcosa che impedisce la reale unione di divino e umano, di finito e infinito. Hegel articola le religioni in diverse forme. Una religione chiamata naturale, quella dei popoli antichi, dei popoli orientali, che identificavano le forze naturali e la divinità, quindi religione naturale, una religione artistica che è quella dei greci, in cui il soggetto, in cui la coscienza si sa superiore alle forze naturali, ma non si riconosce ancora come un soggetto assoluto e infinito. E poi la religione rivelata, che è propriamente quella cristiana, una religione cristiana che ha il merito di raccontare di un Dio che attraverso una vicenda conosce una lacerazione, conosce una negazione, cioè si incarna nell'uomo e nell'umanità assumendo la natura umana fino all'estremo della morte. Quello cristiano è un Dio che muore e dunque che si fa uomo in tutto e per tutto, assumendo l'umanità anche nella sua condizione più estrema e più tragica, che è quella della mortalità. E questa vicenda del Dio cristiano è qualcosa che Hegel apprezza profondamente, ma il limite della religione cristiana è quello di guardare all'assoluto nella forma della rappresentazione. Il limite della religione cristiana è quello di cogliere l'assoluto in modo inadeguato, che è appunto la rappresentazione. Perché la rappresentazione coglie l'assoluto in modo inadeguato? Perché rappresentare significa presupporre una distanza tra ciò che rappresenta e ciò che è rappresentato. Affinché si possa avere rappresentazione è necessario il mantenimento di questa distanza tra un soggetto rappresentante e un oggetto rappresentato. E proprio questo mantenimento della distanza è ciò che, dice Hegel, non permette alla religione cristiana di rappresentarsi Dio in maniera di pensare a Dio, di cogliere l'assoluto in modo adeguato. Perché la religione cristiana continua a mantenere inalterata questa differenza, questo abisso, questa distanza che c'è tra soggetto e assoluto. Dunque nella religione cristiana il soggetto non si riconosce come quell'assoluto che esso stesso è, ma, ancora una volta, proprio perché la religione si rappresenta Dio, ecco che quel Dio in quanto rappresentato è un Dio trascendente, che sta altrove, che non si identifica con il soggetto. Dunque il soggetto rimane, dunque la coscienza collettiva rimane una coscienza alienata, distante da sé, distante da quella verità, distante da quell'infinito, distante da quell'assoluto che essa stessa è. Ecco il limite dunque della religione, era offrire Dio, offrirsi Dio, o meglio cogliere Dio in maniera inadeguata nella forma della rappresentazione. E allora come va colto questo assoluto, come va colto questo infinito? Nella forma del concetto. La forma del concetto è quella con cui opera la filosofia. Ed eccoci arrivati quindi alla stazione dello spirito assoluto, o meglio della filosofia, ossia di quel modo di cogliere l'assoluto che è operato attraverso il modo del concetto. Il modo del concetto è il modo razionale, che secondo Hegel è offerto soltanto dalla filosofia intesa come disciplina scientifica. Il sapere assoluto è un sapere infatti di tipo scientifico, rigoroso, rigoroso, razionale, che dunque è il modo adeguato di pensare l'unione tra soggetto e oggetto, tra finito e infinito, tra Dio e l'uomo, tra la coscienza e l'assoluto. E quindi la forma più adatta per esprimere l'assoluto è proprio quella del concetto. Perché? Perché il sapere assoluto è un sapere scientifico e il sapere scientifico può essere espresso, può essere tale solo se espresso nella forma del concetto. La terza, quindi e ultima tappa della seconda parte della fenomenologia dello spirito, e dunque l'ultima tappa della fenomenologia dello spirito è quella che riguarda il sapere assoluto, come sapere scientifico e come sapere che si rappresenta l'assoluto nella forma del concetto. Ora però bisognerà trarre anche alcune conclusioni riguardo a questa fenomenologia dello spirito e dunque fare un po' come Hegel dice, fa la filosofia, gettare uno sguardo all'indietro. Siamo arrivati all'ultima tappa, siamo arrivati alla tappa della filosofia, siamo arrivati alla tappa di quella filosofia che è un guardare le cose dall'alto, dice Hegel. Come fa la nottola di Minerva, come fa questo uccello notturno che si alza in volo a contemplare le opere degli uomini, quando le opere degli uomini sono terminate, sono concluse, quando tutti dormono, quando si è fatta notte, si alza in volo la nottola e si alza in volo anche la filosofia e si sistema in una posizione che è quella per cui può guardare tutto dall'alto, guardare tutto dall'alto per fare il suo lavoro, che è quello non di modificare il mondo, questo lo dirà Marx, non di modificare la realtà, ma quello di contemplare la realtà e cercare di comprendere la realtà, ossia cercare di comprendere e se arriva all'inizio di quello che si è detto in questa lezione, cercare di comprendere la struttura razionale che governa il mondo e che si muove secondo una legge che è dialettica. E quindi al termine di questo travagliato percorso della coscienza, la coscienza stessa guarda indietro dalla posizione della filosofia, guarda indietro dalla prospettiva del sapere assoluto, guarda indietro a tutto ciò che ha vissuto, guarda indietro quindi con uno sguardo retrospettivo e vede come se osservasse qualcosa, un cammino compiuto da qualcun altro, come se osservasse un percorso compiuto da qualcun altro, per rendersi invece conto del cammino fatto, per rendersi invece conto che quel cammino è stato fatto appunto dalla coscienza stessa e si guarda indietro la coscienza con la filosofia, dalla prospettiva della filosofia proprio per dare un senso e il giusto significato a ogni tappa, a ogni momento di quel percorso e in questo conferimento di senso, in questo dare il giusto peso a ogni tappa, a ogni figura, a ogni momento del percorso, la coscienza acquisisce la piena consapevolezza della fatica fatta. Hegel dice che bisogna fare la fatica del concetto, la fatica del concetto per giungere allo sguardo sulla realtà come un intero, il vero è l'intero ed è la filosofia che lo riconosce, è la filosofia che dà un senso retrospettivo a tutto ciò che è stato, conferendo quindi il suo significato a ogni passo, a ogni momento, a ogni tappa di questo cammino storico. In questo guardare quindi dietro di sé al cammino della coscienza, la coscienza, che era già diventata precedenza autocoscienza, si riconosce, meglio riconosce come proprio il cammino fatto con tanta fatica. La coscienza si autoriconosce nel proprio cammino, la coscienza si autoriconosce come quello spirito assoluto che si rivela, si manifesta, si concretizza nella realtà. Ecco che la coscienza a questo punto si sa non come qualcosa villacerato, scisso, alienato, separato da sé, ma conosce se stessa, nemmeno come una coscienza individuale, ma come quella coscienza assoluta e come quel soggetto assoluto di cui era in cerca. Ecco quindi che il sapere assoluto è la filosofia, cioè la consapevolezza del fatto che la storia è il rivelarsi dello spirito, la consapevolezza del fatto che la realtà è il rivelarsi della ragione, la consapevolezza del fatto che la storia è il rivelarsi dell'idea, del pensiero, della coscienza, dello spirito e della ragione. Al sapere assoluto appartiene quindi questo sguardo sul cammino fatto e anche questa memoria del percorso compiuto, anche questa memoria quindi del percorso compiuto della coscienza per ritrovare se stessa e conoscersi nella realtà come realtà assoluta. Alla filosofia il sapere assoluto appartiene quindi la memoria di questo percorso fatto dalla coscienza per riconoscersi come manifestazione della razionalità che abita la realtà. La coscienza è manifestazione della razionalità che si manifesta nella realtà e questo è il senso del viaggio della coscienza. Ma bisogna arrivare al termine del viaggio per capire il senso del viaggio compiuto. E' come quando accade che facciamo un viaggio. E' soltanto alla fine del viaggio che capiamo perché ci siamo messi in moto e che diamo un senso a tutto ciò che di bello e di brutto è successo nel viaggio. E probabilmente sarà così anche nel viaggio della nostra vita. E' soltanto alla fine del viaggio di un uomo che non tanto l'uomo che andrà a morire, quanto chi rimane terrà memoria, guarderà dall'alto, terrà memoria e darà significato a quella biografia, a quel percorso, a quel cammino che è stata la vita della persona che ha vissuto. Quindi con la filosofia e con il sapere assoluto ecco che c'è anche memoria di questo riconoscersi della coscienza, di questo percorso che la coscienza compie per riconoscersi come manifestazione della razionalità. Per ragioni didattiche, di chiarezza didattica e in sintesi possiamo dire che lo spirito assoluto è il pieno e sicuro possesso di tutti i momenti di questo lungo e travagliato percorso della della coscienza. La filosofia dunque come sapere assoluto guarda dall'alto e soprattutto guarda con uno sguardo unitario tutta la successione del cammino, una successione del cammino composta dal succedersi delle figure, di figure di volta in volta più alte, di volta in volta più complesse, che si succedono appunto all'interno di un andamento dialettico in cui sono tolte e superate, poste, tolte e superate. Ma tutte queste figure fanno parte, sono conservate e sono conosciute come parti necessarie, come momenti necessari di un intero, l'intero che è lo svolgimento dello spirito, che è la manifestazione dello spirito o della ragione. Quindi le figure sono momenti necessari dello sviluppo di un intero che è la ragione. Questa consapevolezza e soprattutto il senso di ogni figura, il senso di ogni successione, il senso di ogni posizione e toglimento di questi momenti, di queste figure che scandiscono l'andamento della ragione nella realtà, il senso di tutto ciò è dato dalla filosofia come sguardo unitario e dall'alto. E allora se anche noi a questo punto guardiamo indietro alla fenomenologia dello spirito nel suo insieme che cosa vediamo. Vediamo il quadro, il movimento grandioso dello sviluppo del mondo e dell'uomo occidentale, uno sviluppo dell'uomo e del mondo occidentale che prende vita e prende forma sotto i nostri occhi nel susseguirsi di esperienze storiche, di idee, di momenti culturali, di istituzioni ed elaborazioni politiche e culturali. Un mondo occidentale quindi narrato dal punto di vista della filosofia e che segue un cammino di evoluzione e di sviluppo che è un cammino travagliato, un cammino accidentato, di continua perdita e riconquista di sé da parte della coscienza, da parte dello spirito. Insomma la lezione che possiamo tenerci della fenomenologia dello spirito è questa, parlando del travagliato e difficoltoso cammino dello spirito o della coscienza collettiva, che non c'è una reale conquista, un'autentica conquista spirituale senza il dolore e senza il drammatico confronto con la lacerazione e con la separazione. Hegel sta dicendo che se vogliamo tenerci un insegnamento che non possiamo evitare di passare attraverso il dolore e la negatività se vogliamo conoscere noi stessi, esattamente come la coscienza umana ha potuto evolversi e conoscere se stessa soltanto passando attraverso i momenti negativi, la negatività, il dolore. E ancora, volendo fare nostro l'insegnamento hegeliano, potremmo dire che come per Hegel è necessario fare ricorso alla filosofia, ossia fare la fatica del concetto per avere consapevolezza, per conferire senso a ciò che capita alla coscienza, allora forse anche per quel che riguarda noi stessi, non possiamo prendere consapevolezza di noi stessi e dunque anche realizzare noi stessi, conoscerci in profondità, conoscere i nostri limiti, come direbbe Socrate, se non facendo appunto la fatica del concetto, ossia ricorrendo ad alcune armi, ad alcuni strumenti, di quella disciplina che guarda le cose dall'alto, come quella civetta che guarda alle opere dell'uomo nella notte, quella disciplina che guarda le cose dall'alto, che è appunto la filosofia. Grazie. 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 Grazie.